Tre incidenti mortali in due mesi e una miriade di incidenti conferiti, è il triste bilancio delle strade che ricadono nei comuni di Castelfidardo e Camerano, solo una fatalità a quegli incidenti per gli amministratori che però hanno deciso di unire le forze, mettendo nero su bianco una collaborazione tra le due polizie municipali, tanto più con l'estate già nel vivo e con la massima attenzione alla costa, l'interno viene spesso lasciato scoperto, allora si corre ripari, a Castelfidardo viene stabilita la centrale operativa che gestirà anche le chiamate provenienti da Camerano, particolare attenzione alle ore serali e ai fine settimana. Camerano oltre le 20 non aveva mai fatto controlli notturni che servirà alla necessità di un rafforzamento pomeridiano e la sinergia proprio fra i due enti riguarda questo, ci saranno soprattutto nei fine settimana controlli fino alle 4 del mattino con attrezzature, drug test, etilometro eccetera. È un accordo che possiamo dire è assolutamente a costo zero per i cittadini, cioè noi siamo riusciti a migliorare il servizio di vigilanza sul territorio potenziando per il 50% l'offerta che la Polizia Municipale riesce a dare. Il protocollo d'intesa avrà una durata di sei mesi, se avrà successo lo ripeteremo dicono i due sindaci, al bando del campanilismo insomma quando si parla della sicurezza in strada.